Una piazza digitale in cui condividere le bellezze ma anche le problematiche del territorio. E' nato così Digital Square, presentato questa mattina a Capodorlando, capofila di 21 comuni che hanno aderito al progetto del GAL Neblo di Plus. Debo dare merito ai 21 comuni dell'area che ricadono al di fuori delle cosiddette aree interne di aver gestito questa misura con molta competenza e al tempo stesso diligenza. Il GAL aveva programmato questa misura nella sua strategia PAL 14-20 ma i decreti di finanziamento di queste misure erano arrivate in forte ritardo. Il GAL ha avuto molti problemi per esempio con il Living Lab, speriamo di mettere le somme in sicurezza. Mentre in questa misura i comuni si sono aggregati, hanno nominato un loro capofila che è il comune di Capodorlando e battendo i tempi sono riusciti a realizzare l'impegno assunto progettualmente. La misura riguarda la cultura e più in generale tutto ciò che è collegato alla cultura. Quindi il territorio si dota di una piattaforma strategica. La DGAL Square è un'iniziativa tra comuni, sono 21 comuni insieme che sono messi in un'ati per cercare di realizzare questa innovazione sotto l'aspetto del marketing cercando di rilanciare il territorio in maniera seria e organizzativa e proponendo tre livelli differenti. Una è una piattaforma virtuale in cui ci permette di collegarci a tutte quelle che sono le varie opere e gli interventi dei 21 comuni che stanno assieme. A questo viene approfondito poi una serie di altri elementi che sono attuativi sulle segnalazioni e sul coordinamento degli interventi che possono essere fatti. Il cittadino potrà segnalare in maniera ordinata tutto quello che ritiene opportuno e che l'amministrazione valuterà sia per quanto riguarda manutenzioni, parliamo di altre cose, strade, luci, fognature, acque e quindi anche questo diventerà interattivo. E questo chiaramente porterà la visione dell'ente locale in una proiezione futura anche attraverso gli interlocutori che ormai sono internazionali e quindi visitare il territorio da remoto, ragionare su quelli che sono gli atti che possono essere legati al territorio.